E' passato tanto tempo da quando il mondo è incominciato e molti uomini abitano ora la terra e hanno costruito grandi statue di pietra. Gli uomini vorrebbero che le statue fossero pronte ad aiutarli ma le statue di pietra non hanno occhi veri per guardare e non hanno una bocca per parlare né orecchie per ascoltare. Gli uomini non vanno d'accordo tra di loro. C'è chi uccide e chi ruba gli animali del vicino per poterseli mangiare ma tutto questo alle statue sembra non interessare. E gli uomini parlano con le statue ma le statue non rispondono agli uomini.